buongiorno a tutti quanti oggi video un po diverso dal solito non di rasatura perché oggi ho voglia di farmi magari una rasatura un po in privacy in tranquillità però ci tenevo perché non mi sembrava il caso di arrivare subito a conclusioni proprio la prima prova anche perché essendo un rasoio particolare ci volevo un attimino pensare le mie idee erano già chiare in testa però ho detto prima di dire cose che magari dopo non sono la realtà è meglio avere pazienza e ora dirò la mia sul manico blick perché questo non è un raso oblique è un manico oblique quindi noi stiamo lavorando con una testina dritta e un manico obliquo che fa diventare oblique la testina a cosa dovrebbe servire dovrebbe servire a fare quei famosi passaggi slant quindi i famosi passaggi che sono una mezza via ad esempio tra il pelo e pelo obliquo o meglio ancora per me che quello che uso di più una mezza via ad esempio tra il pelo obliquo il contropelo per arrivare al contropelo con meno pelo possibile allora questi passaggi possono funzionare nel verso del pelo possono funzionare nel verso obliquo ma non possono funzionare nel contro pelo per come la vedo io allora com'è che faccio io adesso vi spiego intanto usarlo sempre nel modo più efficace io diventerai mato cioè ci vuole veramente dovrei fare un equazione ogni volta perché io ho il pelo che cresce non giù dritto va per così di qua va così fino a qua dopo di poi cresce così fino a di qua e di qua cresce così senza contare varie voragini e via dicendo quindi ogni volta che faccio pelo allora voglio essere più profondo dovrei andare così dopo arrivo qua qua dovrei fare così o per così dopo di qua devo girare dall'altra parte perché il contrario se uno deve pensare di radersi in questa maniera qua su ogni passaggio trovare quello più o meno efficace girando rasoietto io veramente diventerei folle tanto più che sono già abituato a quando arrivo qua ad esempio vi spiego un po come mirado io di solito faccio pelo ok qua faccio direttamente un obliquo già in prima passata quindi qua faccio l'obliquo dopo cos'è che faccio come questa è la parte più delicata un po per tutti invece di fare dopo c'è una seconda passata l'obliquo che ho già fatto nella prima faccio dei passaggi in obliquo di slant un passaggio slant che è una mezza via tra obliquo e contro pelo quindi faccio dei passaggi così eccolo qua di traverso questo rasoio potrebbe far fare praticamente lo stesso identico lavoro quasi andando dritto perché io vado dritto e lui piega un po e mi va di traverso però lo fa poco se voi guardate lo fa veramente poco e mi diventa anche naturale perché una volta che io appoggio la testina essendo abituato da anni a sentire la testina in una certa posizione non mi viene naturale cioè farlo lavorare storto col manico è una cosa che non ha senso la sua efficacia e la sua profondità ce l'ha indipendentemente da come voi ci lavorate col rasoio secondo me è proprio fatto bene cioè come taglio come profondità di taglio come progettazione è spettacolare sto rasoio qua molto meglio di quello che mi aspettavo ma secondo me è solo una questione di marketing non ha nessun tipo di utilizzo c'è nessun tipo di cosa buona che a uno possa servire e anche un neofita al di là del peso e quindi sconsigliatissimo c'è una volta che ha preso anche mano usandolo in questo modo qua così che allora dopo dopo del no così ecco abbiamo già capito una volta che ha preso mano così quando gli dai un rasoio così cosa fa deve tutto nella sua testa riprogrammare tutto per usarlo così e secondo me è una cosa che veramente non lo so non ha non ha nessun senso può essere un bel giocattolino per per coloro che hanno già tutto hanno già approvato tutto e provano anche questo lo facevano col manico dritto secondo me era stessa identica cosa perché il rasoio funziona lavora molto bene però sicuramente uno dice cosa me ne faccio di un pezzo di plastica bene invece così è obliquo e quindi lo proviamo tutti giugamente fare rasoio in metallo in italia quasi impossibile perché a parte fatti praticamente nessuno li fa e e quindi la cosa difficilissima quindi cosa che fai va in cina dagli express e di ordini di fai fare la purtroppo è così quindi fare un prodotto italiano non è facile come rasoio inutile nessuno aziende che si investono per fare no costerebbe magari troppo quindi io apprezzo che sia un prodotto italiano comunque credetemi a un taglio meraviglioso ma questa trovata qua è inutile anche perché arriviamo al contropelo qual è la posizione giusta nel contropelo se questo mi aiuta ad avere più profondità nella prima nella seconda passata ma nel contropelo l'unico modo per affrontare bene un contropelo è direttamente in contropelo quindi io non posso andare anche se io vado dritto che non c'è una posizione dove nel contropelo diretto mi va a dare ancora più profondità perché dovrebbe avere proprio un taglio tipo slant che allora mi fa il taglio a ghigliottina potrebbe essere un taglio diverso che dopo neanche quello va più in profondità perché dipende dal capo e dall'esposizione quindi anche lì ecco ha solo un taglio diverso più dolce meno percettibile cosa che personalmente non mi piace però sono gusti questo quando tu arrivi a contropelo non serve più niente potrebbe essere utile quando mi faccio il passaggio di per me ad esempio l'obliquo così o qua per così sono in obliquo per arrivare un po più profondo per arrivare al contropelo ma una volta che tu hai preso mano te lo fai da te io mi faccio questi passaggi così li trovo anche confortevoli da fare o per così così io sto già facendo una mezza via tra pelo peli obliquo e dopo faccio l'obliquo ecco questo queste sono le mie considerazioni niente da togliere alla piacere che ho avuto nell'usarlo perché vi dico la verità come taglio spettacolare però ho dovuto correggere io il tiro o se no devi star lì a farti mille conti su no aspetta così no di qua così no di qua così capite che è una cosa che non ha senso usate sempre solo questo tutta la vita allora una volta che l'avete che avete capito che qua devo usare così così vi va bene ma se dopo domani usate questo dopo domani usate uno slant dopo un altro domani usate uno se avete ogni volta che vedete in mano questo vi cambia la vita ogni volta non è una cosa che non secondo me non ha proprio alcun senso ecco e dico proprio chiaro e tondo su come come la vedo su questo rasoio però è progettato molto molto bene perché ha un taglio profondissimo molto molto profondo e non è derivato secondo il mio parere del fattore perché io ogni tanto lo uso così e ogni tanto lo uso così in base a come sciacquo rasoio come si riempie di più io non ho visto differenze di profondità da una parte dall'altra in base a come l'ho girato quindi perché dopo alla fine io me lo raddrizzo e me lo uso come voglio quando voglio fare slant qua non mi serve il manico che mi vada via di traverso che mi fa andare via di traverso la testina sono io che decido anche perché se io vado su dritto così io lo giro da una parte ecco questa qua sarà bella parte giusta lui mi muove poco io quando voglio fare un vero passaggio slant voglio andare di traverso non appena appena qualche millimetro mi cambia veramente di gran poco quindi la trova una cosa veramente così simpatica nulla di più ragazzi ci vediamo la prossima ho detto io anche su questo bye bye